Questa mattina, un bambino è stato colpito da un malore presso la scuola dell'infanzia Cavour di Città di Castello. L'incidente ha subito attirato l'attenzione delle autorità locali, che hanno prontamente reagito. Il bimbo, stando a quando comunicano dal comune Tifernate, è stato trasportato all'ospedale di Città di Castello. Luca Secondi, il sindaco e Letizia Guerri, assessore ai servizi educativi, hanno espresso il loro sostegno alla famiglia del piccolo lodato l'operato delle maestre dell'istituto. Immediatamente dopo l'incidente, Secondi e Guerri hanno contattato la dirigenza scolastica per seguire la situazione e garantire che fossero attuate tutte le misure necessarie. Ci stringiamo al bambino e ai suoi genitori, con la speranza che tutto si risolva per il meglio, hanno dichiarato in una nota congiunta. Le maestre della scuola sono state riconosciute per il loro intervento tempestivo e professionale. Secondi e Guerri hanno sottolineato che il loro operato nei momenti cruciali è stato determinante. Il sindaco e l'assessore hanno inoltre evidenziato l'importanza della preparazione del personale educativo.